E' bravo, bravo faccia attanasio. Allora non mi sbagliai a sera, ossia non ci può morire mai di fame. Bravo, sapemo fare ma caro sto bello mistero. Bravo faccia attanasio. Ora, è dubbio mio, fallo sapere a tutto lo paese, perché ognuno ci potessi fare congratulazioni. Bravo faccia attanasio, bravo. Marita, dono a cura, Marita, dono a cura. Adesso avendo da marito faceva come un pazzo, dono a cura Marita, va dentro, dono a cura. Si, si, non si riscantassi, me ne stai inno. Complimenti ma carattia, che ha saputo fare sti belli cosi. Oh, non parare mai Marita, annuncia vende perché portò la toalga per l'altare della Madonna. E' bellissima. Ah, vuoi vedere lei? Aspetta che c'è il video. No, no, non sei comoda, non c'è vuota. Ah. Ora, hai un che fare. Ah si, hai un che fare, e va dentro, va dentro, va dentro, saluta madame Vicenzino, e dice che stasera ne vedremo per fare una solita partita di carte. No, ora, c'hai a dire le due parole? E' una cosa vuota, ora non c'è più tempo, arrivederci, arrivederci, va dentro. No, ora ce l'ha a dire. E poi abbiamo una testa chiesta? Ah mia, noi non avevamo niente che dire, noi amoci, non avevamo niente che sentire. Eppure qualche cosa in comune avevamo. Non ce la racconto, stai scherzando, si è fatta la volontà di Dio. Io non ti capisco. O meglio, faccio finta di non capire. Vecchi secchido, che io penso che tu vuoi dire. Bisogna credere che hai una gran faccia di pezza. Andate signore me, come c'è un petta. Non ti rispondo, voglio stare calma. Come stai calma? Io sogno cucina di Paolo. E non volessi che il Ducaroso facesse qualche bestialità. Tu sai da mio zio il concepio il tuo vagimonio. E perciò non hai niente che sperare. Se tu ci vuoi essere bene veramente, o tu dovresti fossi chiesto di rompere questa relazione senza speranza e far donare la pace e la tranquillità dalla sua casa. Ma tu, non è vero che ci vuoi bene. Sono i dinari che ti interessano. Non ce la racconto, figlia mia, non ce la racconto tu. Lasciola perdere. Si vedi? Si vedi che mi misuri con l'ulto palmo? Fosti tu, capelli di dinari che hai sposato a vicin zero. Si vedi? Si vedi? Che dicevi, capelli di bambini a palmo lo lasciaste. Si vedi? E ora che li tirare in là e lo torna a cerchi. Ma soltanto l'altro ti rilassi di qua e la sassi marrare. E finiscila. Finiscila. Ti pare che non lo sassi quanto misi? Finiscila con questa storia di una maritena. Dilla la verità, dilla. E' aggiscila che ti faccia viva! Guardate, signore me! Che lingua chiave! Ebbene si. E' vero. Ma che dice? Ma tu sei pazza? Ma che stai? Non hai ragione più? Non ci date conto che è pazza. Non hai ragione più? Lasciate perdere. No, faccio attanasio. Io sogno buono e sana di mente. Di così non mi affronto. Faccio conto di essere un po' confessionale. Io ho persi la pace. Persi la vita. Non mi importa più di niente. Un momento fa ebbe una zuffa con me marito che non sa come sogno mi ripassare. E scappai da casa. C'è speranza che ci vanno e mica mi ripassavita! Ossia l'umanuscia d'uomo. Ecco. Ma si può sapere. Si può sapere che cosa vuoi di mia! Chi voglio? Chi vuoi? Voglio Paolo! Voglio Camillo Lassi! Che sta forna? Qual era l'acqua calda che magari non dà la testa? No, hai ragione. Chi dove ti conto a questo momento non lo può capire. Ma io credo. Ti scongiuro. Hai cercato di discutere mille. Ma non mi posso scippare dal cuore. Tu sei picciritta. E li puoi trovare uno meglio. Io non posso! Non posso! Mi hai detto che il confunato ci ha parato l'acqua calda che magari non dà la testa? No! No! Paolo è mio! Mi vuoi bene! E ci voglio bene! Non senti il ragione! Ti ti puoi dire! E ora ti faccio bene! No! 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 E' una mezza quarta tutta la mia. Bene. Bene, bene. Bene, bene. Un pallato di quadratura. Va bene, bravi. Va bene, bravi! Grazie a tutti.